Cremio, l'altro giorno parlando con i giornalisti ho detto che i miei elettori alle prossime elezioni non voteranno al buio. Cosa significa? Significa che insieme alla matita copiativa, al momento di votare nel seggio elettorale, il cittadino riceverà questa piccola torcia necessaria per non votare al buio. Mi raccomando voi elettori, quando siete nella cabina elettorale, fate attenzione ai 5 stelle. La cabina elettorale ha occhi e orecchie. I 5 stelle, lo sapete tutti, sono una scelta pericolosa. Sono una scelta pericolosa come i rosa croce dello sceneggiato Belfagor, il fantasma dell'Ubre, o come i beati paoli di uno sceneggiato altrettanto famoso, chiamato l'amaro caso della baronesa di Carini. Cribbio! Sicuramente i più ingrigiti fra voi, io no perché sono sempre giovani, ricorderanno questo seneggiato. Ciao a tutti dal vostro Silvio! Cribbio!